il grande fratello è tornato la nuova stagione promette di essere più emozionante che mai e indovinate chi è entrato nella casa enzo paolo turchi un volto noto e amato da tutti lo conoscete tutti il ballerino il coreografo lo showman enzo ha incantato il pubblico con le sue performance e la sua personalità travolgente enzo è pronto a dare una scossa alla casa del grande fratello con la sua energia inesauribile promette di portare un'ondata di novità e divertimento porterà la sua energia il suo fascino e le sue storie sui nostri schermi ogni giorno sarà una nuova avventura con enzo preparatevi a risate lacrime e momenti indimenticabili le emozioni saranno alle stelle e non mancheranno i colpi di scena enzo ci terrà sicuramente incollati alla tv le sue storie e il suo carisma renderanno ogni episodio imperdibile questa stagione del grande fratello sarà leggendaria con enzo nella casa ogni giorno sarà una sorpresa enzo è una forza della natura e non vediamo l'ora di vedere cosa combinerà allacciate le cinture sarà un viaggio indimenticabile l'amore di enzo per la danza è nato presto fin da piccolo si poteva vedere la scintilla nei suoi occhi ogni volta che sentiva la musica fin da bambino era attratto dal ritmo e dal movimento ogni nota ogni battito sembrava parlare direttamente alla sua anima spingendolo a muoversi con grazia e passione si è allenato duramente dedicandosi alla sua arte passava ore e ore in studio perfezionando ogni passo ogni movimento con una dedizione che pochi della sua età potevano comprendere il suo talento era innegabile anche i suoi insegnanti erano stupiti dalla sua abilità naturale e dalla sua capacità di apprendere rapidamente ha iniziato la sua carriera negli anni 70 era un'epoca vibrante piena di nuove opportunità e innovazioni nel mondo della danza e dello spettacolo era un periodo di cambiamenti ed eccitazione nel mondo dello spettacolo enzo ha abbracciato tutto immergendosi completamente in ogni nuova esperienza e sfida ha ballato in televisione affascinando il pubblico con i suoi movimenti ogni performance era un'esplosione di energia e creatività catturando l'attenzione di tutti ha lavorato al fianco di alcuni dei più grandi nomi dello spettacolo italiano questi incontri hanno arricchito la sua esperienza e ampliato i suoi orizzonti il suo talento e il suo carisma hanno brillato ogni volta che saliva sul palco il pubblico non poteva fare a meno di essere incantato dalla sua presenza magnetica enzo era una stella nascente la sua ascesa nel mondo della danza era solo all'inizio promettendo un futuro luminoso e pieno di successi la carriera di enzo è decollata non era solo un ballerino era un artista a tutto tondo incantava il palcoscenico con la sua presenza illuminava lo schermo con il suo sorriso è diventato un nome familiare in italia il pubblico amava la sua energia e il suo fascino enzo aveva il dono di entrare in contatto con le persone ha recitato in film consolidando ulteriormente la sua fama enzo era un vero showman che catturava il pubblico con ogni suo movimento dietro ogni grande uomo c'è una grande donna e per enzo quella donna è carmen russo la loro storia d'amore è da favola si sono conosciuti grazie alla loro passione comune per la danza la loro connessione è stata immediata si sono innamorati profondamente sostenendosi a vicenda nei loro sogni carmen una talentuosa ballerina e showgirl a sua volta è diventata la partner di enzo sul palcoscenico e nella vita la loro storia d'amore è un'ispirazione per tutti noi sezione 5 la magia della danza le coreografie di enzo il talento di enzo non si limitava all'esecuzione era anche un coreografo di talento creatore di coreografie indimenticabili aveva la capacità unica di tradurre la musica in movimento le sue coreografie erano innovative ed emozionanti superava i confini e affascinava il pubblico il lavoro di enzo è stato presentato in innumerevoli programmi televisivi e spettacoli teatrali è un vero maestro nel suo mestiere sezione 6 un cuore da showman la versatilità di enzo enzo è molto più di un semplice ballerino e coreografo è un vero showman che coglie ogni opportunità per intrattenere ha condotto programmi televisivi portando la sua energia contagiosa sullo schermo ha partecipato al reality show dimostrando il suo spirito competitivo enzo è un intrattenitore nato vive per i riflettori sempre pronto a dare spettacolo sezione 7 perché enzo ha scelto il grande fratello allora perché enzo ha deciso di entrare nella casa del grande fratello è semplice ama le sfide enzo è sempre pronto a mettersi in gioco vuole entrare in contatto con un nuovo pubblico condividere le sue storie ed esperienze e diciamocelo chi non vorrebbe vedere enzo sui propri schermi ogni giorno porterà il suo umorismo la sua cordialità e il suo punto di vista unico nella casa questa stagione del grande fratello sta per diventare molto più interessante sezione 8 cosa aspettarsi da enzo nella casa cosa possiamo aspettarci da enzo nella casa del grande fratello preparatevi a ridere enzo è un personaggio unico sempre pronto a portare un sorriso sul volto di chiunque enzo è noto per il suo umorismo e la sua capacità di trovare il lato positivo in ogni situazione non importa quanto possa essere difficile la giornata enzo riesce sempre a sollevare il morale con una battuta o una storia divertente sarà l'anima della festa intrattenendo i suoi coinquilini con storie e barzellette le sue storie non sono solo divertenti ma spesso portano anche un messaggio profondo rendendo ogni momento passato con lui indimenticabile ma enzo è anche un uomo riflessivo quando non sta facendo ridere tutti lo troverete immerso nei suoi pensieri riflettendo su vari aspetti della vita non ha paura di condividere le sue opinioni e di impegnarsi in conversazioni significative le sue parole sono sempre ponderate e spesso offrono una nuova prospettiva su argomenti complessi vedremo un lato diverso di enzo un lato più vulnerabile nonostante il suo atteggiamento spensierato enzo non ha paura di mostrare le sue emozioni e di aprirsi con i suoi coinquilini preparatevi a un'altalena di emozioni con enzo nella casa ogni giorno sarà una nuova avventura piena di risate riflessioni profonde e momenti toccanti non perdetevi questa esperienza unica sezione 9 preparatevi per enzo enzo paolo turchi sta per conquistare il grande fratello preparatevi a una stagione indimenticabile piena di risate lacrime e tante sorprese enzo è una forza della natura e sicuramente ci terrà incollati allo schermo dal primo all'ultimo episodio non perdetevi neanche un momento saluto Grazie a tutti